Vi invito a perfezionarvi. 4 maggio 1976 Figli miei, eccomi qui in mezzo a voi per farvi partecipare ai miei desideri, alle mie speranze ed anche ai miei dolori. Io vedo molti miei figli che rifiutano la fede, che scelgono di vivere lontani da Dio e che preferiscono le cose della terra a quelle del cielo. Io desidero che si riportino accanto al mio cuore perché si ravvedano e si salvino. Questo mio desiderio deve essere pure vostro. Che varrebbe per una mamma aver generato delle creature, se queste dovessero irrimediabilmente perdersi? Questo desiderio di salvezza che ci accomuna, deve farci adoperare gli stessi mezzi perché la salvezza possa essere realizzata. C'è un mezzo infallibile che reclama da Dio Padre aiuto e pietà, è la Santa Messa. Ecco perché godo che una volta al mese, mettendo in comunione i nostri desideri, abbiate a chiedere quelle conversioni che mi stanno tanto a cuore. La speranza del mio cuore è quella di vedere i miei figli tutti riuniti nella casa del Padre. Il Regno dei Cieli, però, si prepara sulla terra. Vi sono mamme che piangono i loro figli defunti, ma ingiustamente, perché piangono la loro felicità. La speranza cristiana addita la patria come il porto sicuro in cui esiste perfetto amore e perfetta felicità. Là, le famiglie si riuniranno in Dio. Ma già fin d'ora, nella Santa Messa, vi è un anello di congiunzione fra la terra e il cielo. Si legge nel Vangelo che uno degli Apostoli chiese a Gesù Mostracci il Padre. E Gesù rispose Chi vede me, vede il Padre mio. Figli, nella Santa Messa avviene questo incontro dei figli con Gesù e col Padre. Con gli occhi della fede, voi potete scorgere attorno all'altare tutti i vostri cari che vi hanno preceduti. E per la virtù della speranza, tanto cara a Dio e tanto necessaria al cristiano, potete vedere tutti coloro che amate, coperti dal sangue di Gesù e perciò salvi. Voi sapete che vi amo e che vi assisto particolarmente e individualmente nella vostra vita. Ebbene, io desidero che mi assomigliate e vorrei che Gesù, vedendo voi, potesse dire di vedere me. La somiglianza che esiste fra Gesù e il Padre, fra me e Gesù, deve essere un invito per voi a perfezionarvi fino a confondervi con me. Gesù e il Padre sono una cosa sola. Infatti, le opere di Gesù e le sue parole, il Padre le compiva e le proferiva in Lui. Ma perché non potrete voi agire e parlare in modo degno dei figli di Dio? Ecco che il mio amore per voi, portandovi vicino a Dio, compie quell'opera di perfezionamento che ha al tempo stesso un desiderio e una speranza. Se vi fidate di me, io ricevo dalle vostre mani e dai vostri cuori le vostre preoccupazioni, e le immergo nel calice col sangue di Gesù perché tutto venga purificato ed offerto. Voi volete vivere una vita serena? Affidatemi nella Santa Messa alla guida della vostra vita. Volete togliervi ogni responsabilità? Offritemi le vostre giornate volta per volta, perché io le santifichi nel sangue di Gesù Redentore. Il mondo si salva con la Messa, con la preghiera, con la conversione vostra personale. Non dite che il mondo va male, se non cercate di migliorare voi stessi. Non avete ricevuto grazie e favori immensi. Come si può volere che gli altri migliorino quando, dopo tante grazie, non siete ancora quei cristiani coerenti e ferventi quali il Signore vi vuole? Se voi foste dei veri Gesù, molti più crederebbero in Lui e accetterebbero la vostra parola. Convertitevi, figli! Togliete quei difetti che vi rendono incapaci di operare il bene, e vedrete fiorire la fede attorno a voi. Non possono gli uomini rimanere lungamente insensibili davanti agli esempi buoni e costanti. Se devono ricredersi dei loro sbagli, devono vedere in voi la perfezione, quella possibile. Il mondo ha bisogno di esempi preclari di virtù, le parole suonano a vuoto senza di essi. Non dite mai che avete fatto tutto. Esaminatevi un pochino, e vedrete che avete ancora molta strada da fare. È tempo pasquale, tempo di grazia. E il mese di maggio è un invito a rinascere, a purificarsi. Se il cammino è lungo o corto, non lo potete sapere. Sapete però che dovete santificare il presente come unico dono di cui potete disporre. Fate dell'oggi un atto d'amore, di fiducia, di speranza, e si realizzeranno i vostri desideri. Io vi benedico tutti, figli. Benedico i malati e i sani, i buoni e i meno buoni. Benedico i vostri familiari e l'Italia tutta. Pregate con amore, agite per amore e restate uniti fra voi e con me, per amore. Concederò oggi grazie particolari a tutti coloro che assisteranno al santo sacrificio. Arrivederci, figli.